In questi giorni si sta definendo la politica agricola comunitaria. La politica agricola comunitaria avrà un taglio per l'Italia di oltre 6 miliardi di euro, quindi questi 6 miliardi sono andati appunto a finanziare il recovery plan, quindi sono risorse che erano già degli agricoltori. Per quello che riguarda il futuro dell'agricoltura è evidente che l'agricoltura sempre di più si dovrà caratterizzare per essere la produttrice delle materie prime e del cibo. Questo rimarrà per sempre il grande DNA degli agricoltori. Però proprio nell'ambito della transizione ecologica sempre più dobbiamo fare attenzione a una serie di opportunità che oggi il mercato offre e su cui gli agricoltori devono dare un contributo, soprattutto un contributo per l'alto valore civico e sociale che l'agricoltura riveste nel più ampio sistema economico e sociale appunto del Paese. Noi agricoltori contribuiamo in maniera determinante nell'abbattimento ad esempio delle emissioni, ma nessuno sa qual è la funzione che noi svolgiamo grazie alle nostre foreste, ai nostri boschi, alle nostre coltivazioni. A volte anzi al contrario siamo accusati di essere coloro i quali contribuiscono alle emissioni, senza sapere che invece la medaglia ha due facce, c'è un tema che ovviamente contribuisce a generare emissioni come tutte le attività economiche, ma dall'altro l'agricoltura a differenza di tanti altri noi invece assorbiamo anidrite carbonica nei terreni e rilasciamo ossigeno. E se pensiamo a quante aziende sempre più vanno ad acquistare crediti carbonio sul mercato, io credo che un futuro sia proprio quello legato allo sviluppo dei crediti di carbonio e l'agricoltura ovviamente in questo può essere un importante player. Poi ci sono i grandi temi legati allo sviluppo sostenibile, in particolar modo alla mobilità sostenibile. Tanto quanto sul tema energetico elettrico, tanto quanto biometano, noi saremo protagonisti assoluti, sia nello sviluppo del fotovoltaico a terra e su questo stiamo lavorando ad un grande progetto di elettrificazione e di produzione di energia elettrica, sia per l'autosufficienza delle imprese, ma soprattutto per metterla in rete rispetto agli obiettivi che il Ministro Cingolani così importante ha voluto dare al Paese, quindi con un processo ovviamente che guarda al fotovoltaico. Dall'altro sul biometano noi abbiamo già oggi in Italia oltre 1500 impianti che producono biogas, parte di questi dovranno essere riconvertiti e invece una parte importante, soprattutto di quelli più piccoli che fino ad oggi sono stati esclusi dal sistema incentivato, dovranno guardare sempre di più con attenzione alla produzione di biometano e in cui abbiamo una serie di accordi con Snam, abbiamo accordi con altre importanti compagnie, soprattutto nell'ambito dell'utente ultimo, ossia chi utilizzerà ovviamente lo strumento e quindi sia nell'ambito della mobilità e quindi della macchina, abbiamo i grandi camion di Veco o Stellantis e altri, o Case New Holland per la parte trattoristica e in più stiamo iniziando a ragionare anche con le catene distributive dei prodotti perché ovviamente vorremmo dare una filiera che parte dall'azienda agricola e arriva al consumatore basata sui grandi temi dello sviluppo sostenibile e soprattutto sui grandi temi dell'equità ambientale.